Vivi, annegati, tutti cadremo in quell'avviso, e tutti cadremo nell'avviso. Siete tutti marinai, gente di mare, di cosa? Siete tutti. Siete tutti. Andiamo verso il... Andiamo a Lomazzo. 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 8 km Saranno 6 per la nave Però Eurellini Prima di schiena 19 Sono una nave Perfetto 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 è stato in pericolo possibilità di piena provvise la 2.6 stanno 7.1 sono un mazzo 2.27 non accendere fuochi la casa dei suoi rifiuti non correre i fiorellini viola piccole violette stiamo avvicinando proprio la mazza stiamo avvicinando 0473 29 1060 via stazione 128 39 010 aggregazione bolzano rignano cerco del 2 dritto 10 30 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 40 40 40 40 40 41 45 42 42 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie.